Buongiorno a tutti, ben arrivati e bentornati sul mio canale. Oggi siamo al mare, primavera sbocciata, caldo, bello, si sta veramente super. Allora, intanto volevo ringraziare tutti gli iscritti per la fiducia che mi state concordando, grazie per i vostri like e i vostri commenti. Proprio riguardo dei commenti, una di voi mi ha scritto che nel video dove spiegavo il trucchetto a uncinetto per il bordo, purtroppo non si vede molto bene. Perdonatemi, non sono una youtuber esperta, quindi con la telecamera ho ancora delle difficoltà. Quindi ci ho riprovato e di seguito a questa introduzione vi pubblicherò nuovamente il video. Quindi chiedo ancora scusa, grazie a tutti, un abbraccio, buona giornata, un bacione e ciao! Buongiorno, eccomi qui! Finalmente, a quanto pare, ho trovato il modo per poter farvi il video e farvi vedere bene il punto, sperando che la telecamera non faccia trucchetti. Bene, allora, faccio gli ultimi punti a maglia bassa. Questo è l'ultimo. Alla fine, cosa facciamo? Prendiamo la maglia che è qua dietro. Ecco, aspettate che la telecamera è ferma. Questo qua, questa maglia qua. Ok, questa qua. Se non riuscite, aiutatevi con un uncinetto mezzo numero. Ok. Adesso dobbiamo entrare invece qui. In questa maglia qui. Ok? Io adesso mi aiuto con questo uncinetto che è mezzo numero più piccolo, perché anche io faccio un po' fatica, quindi tiro fuori. Prendo l'uncinetto più piccolo di mezzo numero. Eccomi qua. Ok. E come vi ho detto, entro qui. Abbiate pazienza. Entriamo, eccoci. Bene. E passiamo il filo. Così abbiamo due asole. Faccio la catenella. Non mi dimentico di ritornare l'uncinetto mezzo numero più grande. Giriamo. E riprendiamo il nostro lavoro. A maglie basse. Approfitto per farvi vedere la variante della maglia bassa che io sto usando. Che, come vedete, fa questo tessuto con queste V ed è anche il tessuto nel complesso più rigido. invece di entrare nel foro qui come siamo abituati per una maglia bassa normale entriamo qui sotto sotto questo ponticello qui che c'è la V la V formata da queste due barrette noi entriamo qui qui prendiamo il filo usciamo e facciamo la nostra maglia bassa entriamo e facciamo la nostra maglia bassa entriamo e facciamo la nostra maglia bassa spero che questa volta si sia visto un po' meglio ciao a tutti